De Magistri, sindaco di Napoli, perché a Napoli, al contrario di Parigi, dove stanno aperti fino alle 5 di notte, alle 23 chiude tutto, De Magistri non è affatto contento di questo, giusto sindaco? Le sembra una misura un filino eccessiva. Guardi, io condivido molto le parole del dottor Lacuaniti prima. In questo momento ci vuole responsabilità, rigore, ma anche buon senso. Se chiudi tutte le ristoranti e tutte le pizzerie alle 23, provochi assembramenti, perché vanno tutti tra le 21 e le 23, non ha nulla a che vedere con la movida e con gli assembramenti. Noi dobbiamo rispettare e tutelare la salute al massimo, ma ricordarci che siamo nella fase di convivenza con il virus e gli altri diritti, le libertà, l'economia, il lavoro, il sociale, la lotta al crimine, continua tutto questo. Quindi io non condivido, poi posso entrare pure più nel dettaglio. Una misura per nascondere i fallimenti purtroppo di questi mesi nel rafforzare la rete sanitaria pubblica nella nostra regione.